segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te amici con questa immagine di di simon bai marcello ci ha dato un bellissimo assaggio no roberto di di questo libro ti chiedo nell'edizione del pieno come diceva roberto di storie di immagini che hanno segnato l'anno scorso per l'anno passato nel 2024 metterai nel libro la morte di vittorio emanuele certamente come si fa tipo ti posso dire che chiederò un pezzo a maria corbi che è una vittoria emanuele forse la più grande biografa del principe e che impressione che cosa cosa resterà di questo uomo secondo te resterà tutte le cavolate che ha combinato insomma tutti i guai ha combinato a cominciare da quello gravissimo un omicidio da cui è stato assolto con molti aiuti diciamo però fino all'ultimo quando ha fatto quel documentario ultimo che è uscito si è lasciato scappare una frase sul suo amico juan carlos caricandogli la morte del fratello dicendo anche a lui gli hanno fatto gli hanno perdonato la morte del fratello che insomma se lo poteva risparmiare confessato se lo poteva risparmiare diciamo però oggi parlandone da vivo parlandone parlandone da vivo naturalmente parlando di saremo tu questa sera ci parlerai del festival di sarà